L'Udinese ha la seconda peggior classifica casalinga Una sola vittoria in casa Una sola vittoria in casa Una sola vittoria in casa Signori bentornati o benvenuti sul canale Io sono Dario Detto e il DarioN E oggi siamo qui riuniti questa domenica Particolare no? Perché di solito la domenica Siamo qui a fare le pagelle Oppure fare il post partita Perché di solito la domenica è il giorno della partita E invece non so dopo quanti anni Siamo qui a vivere una domenica a vigilia Perché in realtà Napoli giocherà domani Andrà a Udine In una partita che inevitabilmente Ti porta alla partita dell'anno scorso Ormai lo stadio di Udine Diciamo che diventerà Verrà sempre associato a quella partita lì Comunque siamo qui per parlare di Udinese-Napoli Prima però di fare questo Vi ricordo come sempre le solide raccomandazioni Iscrivetevi al canale Che è totalmente gratis Attivate anche la campanella Che così rimarrete sempre aggiornati Prima di parlare della partita Voglio un attimo aprire una piccola parentesi Su una notizia Che è stata lanciata Ieri sera Da Sky Fatemi controllare Vabbè l'articolo è uscito stanotte Di Calcio Napoli 24 Quindi l'hanno fatta uscire ieri sera la notizia Sky di Marzio Ha lanciato una notizia di calciomercato Che riguarda il Napoli E adesso ve la vado a leggere Si parla di Ozyman Voi sapete che Ozyman Al 99,999999% Quest'estate Andrà altrove Se ne andrà da Napoli E la squadra diciamo oggi Più Vicina Ozyman Sarebbe il Paris Saint Germain Ieri sera Di Marzio Ci ha detto Che praticamente Oltre al Paris Saint Germain Ci sarebbe anche Il Chelsea Ci ha dato anche Una bozza diciamo Di trattativa Di Marzio praticamente Ci dice che Il Chelsea Starebbe cercando Di capire Quindi Già qua Starebbe cercando Di capire La fattibilità Di un'operazione Da 90 milioni Più L'inserimento Di due contropartite Una Che sarebbe un giovane Così generico L'altro giocatore Sapete chi è? Lukaku 90 milioni Più Lukaku Più un giovane Per Ozyman E per chiudere Di Marzio dice Che Lukaku È un pallino Del prossimo DS Manna Che voleva già portarlo Alla Juve Voi sapete perché Io faccio questi video Dove parlo Del totallenatore Del mercato in generale Sapete perché li faccio? Li faccio principalmente Per smontare le notizie Ok? Non nascondo che Questi video Stanno andando benissimo E stanno anche Andando oltre Le mie aspettative Il principio base Di questi video È smontare Le notizie Ora Lukaku È un pallino Di Manna Manna non era quello Che prendeva i giovani E faceva la squadra Per la Juventus Next Generation Non andava a prendere Giovani di talento Lukaku È un pallino Di Manna Lukaku Trentenne Anzi Fra poco Farà 31 anni Per carità Giocatore Comunque Di tutto rispetto A me Non fa molto Impazzire Però Ha delle caratteristiche Che sono oggettivamente Importanti Per la Serie A È un giocatore Che però Nei momenti Importanti Sparisce Il Napoli Non sostituirebbe mai Osimena Con un 31enne Già qua Parliamo di una notizia Che 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 Non ha senso Di esistere Ovviamente Ragazzi Perché viene fatta Questa notizia Perché si parla di Conte E si sa che Lukaku È un giocatore Comunque Ben apprezzato Da Conte Quindi Si parla di Conte A Napoli Bene Parliamo di tutto Ciò che È collegabile A Conte Quindi Questa notizia Ragazzi Onestamente Io Cioè Vi dico la mia Non prendete La propria In considerazione Perché è l'ennesima Butad Messa lì Per fare qualche Click E qualche Vendita di giornali In più Tutto qui Cioè Questa è la notizia Detto questo Ragazzi Parliamo Della partita Cannavaro Ha fatto la conferenza Stamba Pre partita E Voglio andarla Un attimo Ad analizzare Insieme a voi Perché secondo me Ci sono delle cose Interessanti Da Dire La prima domanda Che gli fanno A Cannavaro è Come si continua Dopo la prestazione Di Bologna Per chi se lo fosse Dimenticato L'Udinese A Bologna Ha pareggiato E diciamo Che potrebbe rischiare Anche di vincerla Con la partita Perché nel finalissimo L'Udinese Se non si ricordo bene Preso un palo Comunque rischiò Di andare in vantaggio Proprio nel finale Di partita Quindi Una partita Diciamo che Sa un po' Di amaro Da parte Dell'Udinese E Cosa dice Cannavaro Dobbiamo essere bravi Nel mantenere Le distanze Giuste Nei riparti Questa cosa Della compattezza Ragazzi Cannavaro La dirà Più volte Nella stessa Conferenza stampa Poi ovviamente Attenzione superiore Rispetto al Bologna Sia in fase di possesso Che in fase di non possesso Poi si parla Un po' Delle rotazioni Degli indisponibili E Diciamo che L'Udinese Domani Avrà un bel po' Di defezioni In un po' Tutti i reparti Perché hanno Silvestri a Porta Che è infortunato Però sappiamo Che da tempo Ha perso il posto Non ci sarà Lobric Che è comunque Una perdita importante Non ci sarà Toven Deleufeo Vabbè È fermo da tempo E Bossé E Giannetti E da quel che ho letto Non dovrebbe esserci Nemmeno Novoio e Perez Il famoso Perez Che a gennaio De Laurenti Aveva offerto 25 milioni Oli Inclusive Una roba del genere Quindi L'Udinese Sicuramente Ha delle defezioni Importanti Per la battita di domani E comunque Il carnavalo Poi ci fa un punto Su Dei giocatori Che stanno lì Che sono un po' A mezzo servizio Ci dice che Brenner C'ha qualche minuto Davies È un giocatore importante Ma vanno Tutti gestiti Dobbiamo essere più lucidi In certe situazioni E va bene Poi si parla Poi si parla Poi si parla della pressione Gattuso Sì Sto facendo Gattuso Cannavalo Dice Bisogna eliminare La paura Tante volte Parti per sconfitto Poi Però te la vai a giocare Senza paura Questa frase Secondo me Può essere Può essere Tranquillamente Applicata Anche a Napoli Quest'anno Cannavalo Poi ribadisce Questa cosa Della compattezza Dice che Non si può diventare Il Barcellona Dall'oggi al domani Ma voglio continuare A vedere una squadra Che corre compatta Quindi torna Questo tema Della compattezza L'Udinese Aspetterà L'avversario Domani Dice Cannavalo Il gioco del Napoli Ti porta a essere Basso E ci siamo Sto cercando Di far capire Ragazzi Che si può Accorciare Alzare la difesa Spingere più fuori Con gli attaccanti Bisogna pressare Anche nella metà Campo Avversaria Senza paura Quindi diciamo Che Cannavalo Si aspetta Di vedere Un Udinese Diciamo un po' più Attiva e propositiva Ma commettiamola così Specialmente Nella fase di non possesso Perché Dice Alzare la difesa Accorciare in avanti Spingere fuori Con gli attaccanti Quindi gli attaccanti Devono essere i primi Iniziare il pressing Sugli avversari Quindi diciamo Che domani Teoricamente Cannavalo Ci ha spoilerato Che dovrebbe Dovrebbe diciamo Vedersi un Udinese Un po' più Un po' più propositiva E un po' più coraggiosa Una domanda Su Empoli Frosinone Che si gioca oggi Che dice Il risultato di questa partita Può pesare Dice giustamente Cannavalo dice No perché Io devo pensare A quello che succede In casa mia E posso dire la verità Hai Empoli Frosinone E poi l'Udinese Che si stanno giocando Praticamente L'ultimo posto In campionato Ci sarebbe anche Sassuolo Che magicamente Ieri Ha vinto Contro l'Inter L'Inter quest'anno Ha perso Sei punti su sei Contro il Sassuolo Molto strano Ci sono quattro squadre Che sono in lotta Per la salvezza Le partite Secondo me Di queste squadre Andrebbero giocate In contemporanea Perché se metti caso Che stasera Il Frosinone Vince E l'Udinese Poi dovrà Dovrà metterci Cioè Mentalmente Sa che se perde domani È quasi finita Quindi potrebbe vedersi Un'Udinese Ancora più Battagliera Ancora più Vogliosa di vincere Come si può Come si può Vedere anche l'opposto Cioè un'Udinese Che vede che vince il Frosinone E quindi si deprima Ancora di più Cioè Io queste partite Le farei giocare Tutte in contemporanea Perché Inevitabilmente Se le metti una Oggi Una domani Una giorno prima Vai a falsare tutto Secondo me Però Non si farà Perché? Perché i diritti tv Sono fondamentali Ritrovi il Napoli Ecco la domanda sul Napoli Per Cannavaro E qua Cannavaro Diciamo che fa Il professionista E dice una cosa Giustissima Cioè Io sono appassionato Il tifoso del Napoli E giocarci contro Sarà emozionante Però io devo pensare Al bene dell'Udinese Ed è Giustissimo Poi domanda Un po' tattica Con Zaraga Al posto di Paiero Domani Cambierà la squadra E qui Cannavaro Ci dà un po' I nozioni Ecco Teoriche Cerchiamo di sfruttare Le caratteristiche Dei giocatori Ma non deve cambiare Il concetto base Ovvero L'occupazione Degli spazi L'essere propositivi E la fase di possesso Quindi Nozioni che poi Vanno Applicate Diciamo Sul Sul campo Perché anche Mazzari Parlava di occupazione Degli spazi Dei terzini Che tagliavano Dentro al campo E poi Non si è visto Minimamente niente Di quello che aveva detto Quindi ragazzi Questo Diciamo Sono le Le parti più importanti Della conferenza Di Cannavaro Diciamo che in generale Domani Dovremmo aspettarci Un Udinese Comunque Coraggioso E che gioca In modo propositivo Detto questo Passiamo Alle probabili Formazioni Io questo video Ragazzi Lo sto facendo Prima Del report Allenamento Vi uscirà sicuramente Oggi pomeriggio Lo sto facendo Prima Della lista Dei convocati Quindi È una formazione Che potrebbe cambiare In base al report Allenamento Mi baso principalmente Su quello che è stato detto ieri Cioè Gollini Zinischi E Kvara Skelia Out Io penso che Kvara Domani non ci sarà Non credo che verrà Manco convocato E ragazzi L'assenza di Kvara Sarà un'assenza Sicuramente Importante Che sposterà Perché sappiamo Che il Napoli Con Kvara È un Napoli Il Napoli Senza Kvara Fatica molto di più Temo che domani Il Napoli Faticherà un po' A costruire azioni In fase offensiva Ho messo Guangesso E Politano In dubbio Perché ieri Hanno fatto Personalizzato in capo Può essere Che oggi Avranno svolto Parte di allenamento In gruppo Però secondo me Potrebbero essere Dei potenziali cambi A partita in corso Sicuramente verranno Convocati Però non credo Che partiranno Dal primo minuto Quindi La mia formazione È questa qui Meretti in porta Di Lorenzo Rachmani Ostigad E Olivera In difesa Ostigad Poi ragazzi In generale Secondo me Giocherà domani Perché C'è un certo Luca Che sui duelli Aerei È pericoloso Ultimamente Abbiamo fatto Segnare un certo Cerri Quindi Se segna Cerri Perché non Può segnare Luca A centrocampo L'obot Ganghissa E Kayust In attacco Gonghi A destra A sinistra Secondo me Giocherà Raspatori Perché È il giocatore Che ha giocato Di più In quella zona Del campo In assenza Oppure In sostituzione Di Kvara E poi davanti Osimena Ecco Quindi Diciamo Che abbiamo Potenzialmente Quattro undicesimi Nuovi Ecco Quindi mezza squadra Diciamo Dei titolarissimi Cambiata Domani Secondo me Sarà fondamentale Innanzitutto Vincere i duelli aerei E quest'anno Purtroppo Sui duelli aerei Abbiamo fatto Veramente malissimo Perché Di gol Ne abbiamo presi Proprio a palate Sui duelli aerei C'è Luca Che sarà un problema Domani Molto molto serio Però Se tu Non riesci A reggere il confronto Con una punta Che sui duelli aerei È pericoloso La cosa devi fare Devi andare a pressare I crossatori Quindi Devi impedire All'Udinese Di crossare E questo ragazzi È quanto Riguardo la partita Piccolissima statistica Che voglio buttarvi lì Perché è abbastanza Indicativa L'Udinese A parte perché Come ho detto All'inizio video È Udinese Napoli E dall'anno scorso In poi Inevitabilmente Sarà una partita Diciamo speciale Però Anche dal punto di vista La classifica Io Non mollo Di un centimetro La conference La conference league È lì Del ranking E poi Del fatto Che devi restare In Europa Però È importante Arrivare anche Ottavi Perché così Ti eviti L'anno prossimo Due turnie extra Di Coppa Italia Eh ma la Coppa Italia È una coppetta Non usciamo dalle coppe Dobbiamo arrivare Almeno ottavi Quindi Almeno quello Cioè Veramente Fare una stagione Da scudettati Senza andare Nemmeno in Europa Veramente Sarebbe da Zero spaccato Nella pagella Quanto sarà bellissimo Quest'anno Fare le pagelle Di fine anno Comunque ragazzi Questo è quanto Fatemi sapere un po' La vostra Nei commenti Fatemi un pronostico Sulla partita di domani Secondo me Domani Vinciamo Però Considerando L'assenza di Clara Considerando L'Udinese Battagliera Secondo me La sfanglia Siamo proprio 1 a 0 Anzi no 1 a 2 Perché il gol Lo prendiamo ormai Da mesi Sono tipo 5 mesi di fila Che prendiamo gol Quindi Il gol domani Lo prendiamo E sarà proprio Lucca a segnare Ecco quindi Domani secondo me Il Napoli Vincerà 1 a 2 Marcatori Lucca Osimè E di Coraspaduri Ecco quindi Questo è il mio pronostico Fate il vostro Nei commenti Lasciando un bel like Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi Che è totalmente gratis E attivate poi La campanella Per rimanere sempre aggiornati Sull'uscita dei nuovi video Detto questo ragazzi Io vi auguro Un buon proseguimento Di domenica E forza Napoli sempre Perché quello Non mancherà mai E noi ci vediamo domani Con il post partita In serata In serata